L'immunoterapia ha letteralmente rivoluzionato il trattamento di molti tumori. Il primo fra tutti è stato il melanoma. Noi ci facciamo raccontare quali sono le attuali prospettive di impiego dell'immunoterapia in questo tumore e anche le prospettive future da una grande esperta di melanoma, la professoressa Paola Queirolo, che abbiamo incontrato a Genova dove è in corso un convegno organizzato dall'Accademia Nazionale di Medicina dal titolo l'immunoterapia in pillole 2022. Professoressa, tutto è iniziato dal melanoma come modello di applicazione dell'immunoterapia inizialmente nella malattia metastatica, una vera rivoluzione di cui lei è stata protagonista. Proprio così, il melanoma è la prepista di tutte le nuove strategie immunoterapiche proprio perché da sempre ha dimostrato di avere una particolare espressione antigenica su cui si potevano dirigere appunto le nostre difese immunitarie. Ci sono casi di regressione spontanea di melanoma anche nella fase metastatica, quindi abbiamo noi stessi le difese immunitarie contro il melanoma. Diciamo che i primi studi sono quelli di proprio dieci anni fa esatti sull'ipilimumab, questo primo anticorpo che ha dimostrato un vantaggio per un 20% di pazienti, comunque già un risultato eccezionale considerando che la mediana di sopravvivenza nella fase metastatica della malattia era quella di sei mesi, insomma siamo arrivati al 20% di pazienti che vivevano a lungo termine con ipi e poi il grande successo, il grande entusiasmo è stato per gli anticorpi anti-pd1, quindi pembrolizuma, benivolumab che hanno appunto dimostrato di raddoppiare questa sopravvivenza a lungo termine. Quindi noi abbiamo preso insieme a tutti i pazienti circa 40-50% dei pazienti che sono vivi a lungo termine, ma andando a vedere nell'analisi dei sottogruppi questi pazienti che ricevono l'anticorpo anti-pd1, vediamo che quelli che hanno una sopravvivenza ancora maggiore che arriva al 70% sono i pazienti che iniziano il trattamento con un basso carico tumorale, quindi meno di 3 sedi metastatiche, la somma dei diametri delle lesioni secondarie inferiore ai 10 cm, l'LDH della norma e invece i pazienti che hanno una sopravvivenza assolutamente dimezzata a 5 anni, cioè dal 70 scendono al 35%, sono quelli con l'LDH elevato più di 3 sedi metastatiche, quindi ovviamente l'informazione deve essere ormai fondamentale per tutti i clinici che trattano melanoma, fare un follow-up adeguato nei pazienti, diagnosticare in una fase precoce la malattia quando le metastasi sono ancora piccole e soprattutto asintomatiche e questo è il modo per raddoppiare la sopravvivenza a lungo termine. L'immunoterapia continua a essere un modello anche però in una fase più precoce della malattia? Questa era la grande speranza quando abbiamo iniziato ad intraprendere gli studi in adiuvante, cioè nei pazienti radicalmente operati con le metastasi linfonodali o con le metastasi a distanza radicalmente operate, di avere lo stesso vantaggio che vedevamo nella fase metastatica e di ottenere ancora qualche cosa di più dopo l'intervento, con un vantaggio non solo di iniziare precocemente la terapia ma anche quello di farla per un tempo limitato nel tempo perché ricordiamo che i nostri pazienti sono giovani, l'età media è 50 anni ma continuano a scendere l'incidenza per età nel melanoma. Quindi abbiamo due studi positivi, quello del pembrolizumab verso il placebo e del nivolumab verso l'ipilimumab che ci dicono come un anno di immunoterapia con gli anti-PD1 possa dare una sopravvivenza a lungo termine altissima, abbiamo più del 70% dei pazienti vivi a lungo termine quindi la siccella continua ad alzarsi e con degli effetti collaterali che sono veramente molto molto lievi, consideriamo che con il pembrolizumab ad esempio nella fase adiuvante del trattamento solo 7% dei pazienti hanno una tossicità a grado 3, quindi possiamo intravedere alcuni effetti collaterali dati dall'immunoterapia ma sono assolutamente gestibili e limitati nel tempo. Ecco ma guardando al futuro si può prevedere un utilizzo dell'immunoterapia ancora in una fase più precoce della malattia rispetto a quella che lei ci ha descritto poco fa? Questo è stato il grande successo dell'ultimo anno e anche il grande successo dell'ASCO di quest'anno, avere i dati aggiornati sulla sopravvivenza dei pazienti che hanno ricevuto un anno di pembrolizumab verso il placebo negli stadi 2B e 2C che sono i pazienti quindi con il melanoma PT3B, PT4A, PT4B, N0, cioè ad altissimo rischio di ricaduta ma ancora con i linfonodi negativi. Questo era un grande unmet need, abbiamo portato avanti questo studio che è stato pubblicato su Lancet proprio due mesi fa, quindi un grandissimo successo considerato quindi un grandissimo successo dalla comunità scientifica e possiamo dire che vi è una riduzione in Relapse Free Survival e anche adesso con i dati dell'ASCO nella Distant Pentastasis Free Survival del 36%, c'è un asaresio di 0.64, quindi una diminuzione del rischio relativo di ricaduta a due anni del 36%, che è un dato straordinario anche guardando le altre patologie oncologiche perché questo è il massimo risultato che otteniamo anche negli altri tumori solidi applicando una terapia adjuvante che però questa volta non è chemioterapia ma è immunoterapia, c'è un farmaco che aumenta le difese immunitarie e che può dare solo blanda e tossicità a lungo termine come l'ipotiroidismo. Grazie mille!